Iniziano domani i saldi a Chieti e le previsioni di Confesercenti, come per l'andamento nazionale, prevedono un calo, una flessione rispetto all'anno precedente. Sì, un leggero calo. Confesercenti nazionale prevede il 43% di consumatori che si rivolgeranno nei negozi fisici o sul web per i saldi, con una spesa pro capite che si aggira intorno ai 160 euro, tra i 150 e i 180, diciamo, in linea di massima. Come sta cambiando il commercio in tempi di pandemia? Ha ancora senso parlare di saldi? Diciamo che chi si rivolge al web ha saldi quotidianamente. Con l'anticipazione, peraltro, con il Black Friday, dei saldi prima addirittura del periodo di Natale, non so fino a che punto questo fatto di mettere questa data o questo periodo, per meglio dire, possa essere indicativo, però diciamo che per il momento si continua a ragionare così anche con le altre associazioni e quindi andiamo così. Non è soltanto il web, però? Molti negozi anticipano i saldi anche in maniera nascosta? Molti negozi, soprattutto nei centri commerciali, questo è piuttosto evidente. Noi abbiamo fatto diversi reclami sotto questo punto di vista, ma evidentemente le strutture, i grandi marchi preferiscono pagare la multa e continuare con le vendite promozionali piuttosto che adeguarsi alla legge. Per quanto riguarda invece il commercio a Chieti, con Fesercenti, ha in mente nuove iniziative, e ce ne sono state di interessanti nel finire dell'anno che è passato. Le iniziative si sono svolte su tre piani, quello dell'antica Roma, quello barocco e poi quello dei palazzi moderni, e hanno avuto un'ottima ricezione. E con Fesercenti ha intenzione di aprire appunto un portale che si occupi proprio del turismo in città. Certo c'è da lavorare tantissimo, perché una città per vendersi come città turistica non può presentarsi così random, bisognerà unire le forze. Vediamo un po', mi sembra che la giunta comunale sia orientata su questo, vediamo di lavorare tutti insieme.